hello people oggi vi faccio vedere ora una cosa sta piovendo però mi pare che c'è più acqua più acqua a terra che in cielo niente corrono come gli addammati andiamo come on everybody un po' passare il piccolo fiume il siracusa c'è più acqua a terra che in cielo sinceramente e poi c'è questo trucchetto e mi hanno trovato di qua così spunto di là questo è perché tutta tutta la spazzatura si va a infilare compresa quella dei dei mastelli che lasciati fuori capite che giro di qua che questa è più tranquilla ora vi faccio fare anche un bel giretto vedete che non c'è niente c'è urbanistica dice che il nuovo comandante di vigili urbani che è laureato in un bel giretto che ha mandato a tutti i vigili urbani fuori per strada così sistemano tutto c'è un bel giretto che è un bel giretto che è un bel giretto che è una l'appandamento. Facci fare un giro più completo, così vi rendete conto. Ci sono quattro strizzette d'acqua, non è che... Vedete che non è appannato il mio vetro, sono riuscito a risolvere... La tecnica del disappannamento, c'è tutta una sua filosofia. Allora, che vi devo fare vedere? Che vi devo fare vedere? Riscendiamo da qui, da questo piccolo torrente. Scendiamo da Queens, dal Queens, andiamo a Brooklyn. Che è forse da Queens? Nozio, nozio. Prego, signorina. Vedi, la gente è con i pantaloncini, con il baracco. Ecco, metto questa rocola. Niente, vi faccio vedere una cosa. Faccio il giro di qua. Guardate, la vedete? La vedete? Tutti questi sacchetti per strada. Quelli vanno a otturare. Guarda, la signora sta buttando la spazzatura. Con i mastelli, le cose. Tutto per strada. Tutto per strada. Tutto nei balconi. Tutta sta spazzatura. Gestita a cazzo di cane. Cioè, spazzatura per strada. Non ci sono i cassonetti. Non risolverete mai il problema. Ecco qua c'è un piccolo torrente. Il Siracusa. Noi lo affrontiamo. Con la pandemia. E lo attraversiamo. Volevo far vedere questa straduzza. Vedete? Guarda. Vedete qui. Dice suga suga ganeshi. Sono caduti i pezzi del palazzo. Sono a terra. Li vedete? Infatti mi muovo immediatamente da questa zona. Allora, guardate che cosa c'è a terra. Guardate cosa c'è a terra. Guardate. Vi faccio vedere una cosa intanto. Dici, ma da dove provengono? Tanto se riuscissi a fermare perché il tergicristallo dietro si muove anche se nessuno gliel'ha chiesto. Non so se si vede, ma vedete tutti la spazzatura qua. I mastelli, tutti i cestini. Qua c'è tutta la spazzatura a terra. Guardate, questa va a finire nelle canalette. Qua serve una ricostruzione della città. Ora saliamo di più. E siamo un'altra volta qui insieme. Ora vi faccio fare il giro dall'altra parte. E poi ce ne saliamo. Un'altra volta necessario di fornimento. Facciamo un giretto di qua. Vedete le foglie. Infatti le foglie. Le foglie vediamo. Questi non vogliono mettere bene. Faccio un piccolo fiumiciatto. Sempre Siracuse. Continuiamo per questa zona. Poi tutti questi nuovi. Sono tutti perché stanno arrestando un po' di gente. Stanno fra di loro. Si arrestano. Si fanno quello del cimitero. Quello della motorizzazione. Quello del medico. Si arrestano fra di loro. Tutti questi nuovi sindaci. Nuove cose. Sono tutti laureati in giurisprudenza. Laureati con laurea. Laurea. E qua. Mi stai facendo? Guarda. Tutte queste carte. Tutte queste carte. Vanno a finire. Queste. Si chiama. Civica. Il genuto. Il genuto. Nascosto. A parte le foglie. Overo albero. Vedete che c'è a terra. Questa stambullizza. Va a finire nelle grade. Vedete che l'acqua. Alla fine. E qui l'acqua che c'è a terra. Vedete. Vedete. Che l'acqua. Vedete. Che l'acqua che c'è nel cielo. Poi mi sto facendo acquaplining. Acquaplining. Guarda. Ora. Ora. Non voglio. Inoltrarmi. Troppo. Nei meandri. del. Un minuto di video. Piove. Ciuffi. Ciuffi. Che soci. Sono quattro gocce da un po' di asfalto che si è. C'è. Vedi questo. C'è il sub. Il sub. Modo schifo. E' tutta a terra l'acqua. Tutta a terra. Tutta a terra. Bisogna residenziale. Sto camminando dove c'è il posteggio perchè sennò non potrei camminare. Ciuffi. 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 Culla terra l'acqua. Ciuffi. Tutta a terra l'acqua. Ciuffi. via l'acqua planning guarda che possano mi faccio diretto qua guarda qua dove c'è questo qua che vende vedete le macchine come camminano l'acqua se ne sarebbe dovuta andare un bel po avete visto la spazzatura che è strada ovunque loro l'importante mi sembra che è tipo matrimonio e ti rispondono sì o no è un matrimonio sì no basta rispondere sì e no è la questione non è come dici tu no o sì è come dice quello spazzatura tutta in mezzo alla strada non serve neanche sto perciclistallo ora passa una macchina tutto viene tutto dall'est tutta l'acqua è a terra c'è molto vento ci i mastelli dove sono i mastelli hello people super pare vi salute c'è tutto il Grazie.